Wolf, storie che contano, il podcast di cui non sapevi di aver bisogno. Guardare questo podcast non vi renderà automaticamente ricchi. Ciao amici di Wolf, bentornati a questo nuovo episodio. Ospite con noi, l'uomo che viene, se pensi e dici la parola imprenditore in Italia, si pensa ad un solo ed unico nome. Flavio Briatore. Ciao. Ti piaciuto la presentazione? Fantastica. Bella, concisa, però è la verità. E poi l'applauso. L'applauso. Sì, l'applauso con quattro gatti, esatto. Il pubblico, incredibile. Però è la verità. Se uno dice, dimmi il primo imprenditore che ti viene in mente in Italia, Briatore. Anche a me, quando si pensa. Anche a te ti viene in mente. Eh beh, giustamente vi parlo. Se non sei convinto tu, come fai a convincere gli altri, no? Sono convinto. Io vorrei ripercorrere le tue gesta, tutto quello che hai fatto dalla Formula 1, ancora prima dagli inizi, quando hai fondato una prima società di noleggio ad leasing di auto e cercare di arrivare ad oggi, no? Però la prima domanda che ti farei è, secondo te come sei diventato l'uomo, la figura imprenditoriale più mediatica, diciamo, il prototipo dell'imprenditore italiano. E quando, secondo te, ti è stato dato questo titolo, in qualche modo? Credo che sia stato un processo abbastanza lungo, no? Perché io sono nato, la logistica nella vita è molto importante. Io sono nato in un posto dove possibilità non ce n'erano, per cui non sono nato a Milano, non sono nato in una grande città, un piccolo paese. Verzuolo. Verzuolo, dove facevi difficoltà ad andare da qualunque parte. Io credo di aver visto Torino, avevo già 15-16 anni, per cui Torino mi sembrava... Ma poi, come tutte le cose, ci vuole molta rabbia, devi sempre pensare che ce la puoi fare, devi sempre capire quali sono le possibilità che hai, innanzitutto devi uscire dal buco dove sei nato. Perché se nascevi lì, se rimanevi lì, facevi... Cioè mio papà voleva che io facessi il geometra, e avevo già trovato uno studio, che era di mio zio, che mi assumeva, credo a 30 euro al mese, una roba del genere. Avevi già un futuro assicurato. Sì, sì, assolutamente. Però non era sicuramente quello che volevo, io volevo fare qualcosa, non so cosa. Però volevo dire, un giorno vorrei essere famoso, ma non ero un cantante, non ero un musicista, non ero... Quindi, diciamo, la componente di essere celebre, di essere popolare, ti ha sempre accompagnato in qualche modo? No, ma era per me. Perché dico, ma è mica possibile che io sia nato in questo posto qui, non è mica possibile che io... Ma perché? Ma poi vedevi il successo, vedevi la televisione, i primi tempi che vedevi le televisioni, dici, ma io non è che possa vivere e morire qua, devo assolutamente per qualcosa. E anche quando andavo a scuola, che facevo le elementari, io pensavo sempre. Poi c'era il maestro elementare, era mio padre, per cui c'erano due maestri. Mia mamma mi ha fatto prima, seconda e terza, mio padre quattro e quinta. Ma quando io... lui diceva che io ero disattento. No, io pensavo. Io pensavo cosa parla grande, avevo sette anni, otto anni. Io ho sempre avuto... i miei amici giocavano a calcio, giocavano... Io stavo sempre ragionando cosa avrei potuto fare per uscire, per fare... Sognavo New York, sognavo le grandi città, Roma. Per cui è sempre stato un po' qualcosa di dentro che mi spingeva a dire se vuoi puoi, se vuoi ce la puoi fare. Chiaro, perché secondo me sei da fuori, no? Sei forse stato il primo imprenditore che ha deciso di raccontarsi e di esporsi un po' riprendendo un po' il modello degli imprenditori americani. Cioè solitamente noi qui iniziamo ad aver avuto una rosa di ospiti abbastanza eterogenea, importante, però la caratteristica dell'imprenditore italiano è che è sempre un po' restio a farsi vedere, esporsi, parlare di soldi, è anche una componente, secondo me è una connotazione anche delle giovani start-up italiane, cercano sempre di non farsi vedere, di non mostrarsi, di non sfruttare magari anche ciò che la popolarità ti dà. Quello che ti volevo chiedere è se tu hai mai pensato a un certo punto della tua carriera di imprenditore che l'essere esposto, l'essere celebre, l'essere famoso potesse essere una controindicazione al lavoro che svolgevi, un effetto collaterale. No, io credo che sia un plus, credo che sia qualcosa in più che ti dà anche perché ti apre nuovi orizzonti, nuove situazioni, nuove conoscenze, nuovi modi di fare. Io ho conosciuto nella mia vita, ho conosciuto tantissimi personaggi che erano più o meno quello che tu hai descritto, mentre altri, se tu vedi ad esempio Donald Trump è sempre stato, io mi ricordo negli anni 80 tu andavi in giro con Donald a New York, era come andare in giro con i Beatles. Certo, era una pop star. Era una pop star, non era un cantante, era un imprenditore, per cui io ho sempre pensato che c'è un mix tra la popolarità e l'imprenditoria e tu fai certe cose, quando sei popolare e sei imprenditore, secondo me aiuta a fare l'imprenditore la popolarità, invece di essere un'endica per me è un grande vantaggio. Chiaro, che secondo me mal si concilia con il nostro paese, ma ci arriveremo. Io vorrei proprio cercare di ripercorrere quelle che sono state le tappe fondamentali della tua vita perché hai fatto veramente un sacco di cose, inizi la carriera imprenditoriana nel 1974, quando vieni preso nella società di brocheraggio Conafia Milano e vieni preso come dirigente e qui hai conosciuto figure di spicco nell'imprenditoria italiana, tra cui il magico incontro con Luciano Benetton, credo sia stato in quel periodo che l'hai incontrato. Io mi ero già trasferito a Milano, sempre tramite la Conafia lavoravo per un agente di cambio e lì avevo conosciuto Luciano, ma Luciano a quei tempi non era Benetton, era proprio Luciano perché i negozi non si chiamavano Benetton. Loro quando Luciano ha capito che i colori erano, in quel periodo lì c'era il marrone e il verde scuro, praticamente come colori, quando Luciano ha capito che i colori avevano un appello incredibile, ha aperto diversi negozi di suoi amici, però si chiamavano Jeans West, si chiamavano Tomato, si chiamavano My Market e ha capito che facendo così dava addito alla competizione di non entrare in quel settore lì, perché ormai c'erano già sette otto marchi che erano tutti i suoi. Poi improvvisamente negli anni 91-92 è nato il fenomeno Benetton con settecento negozi in Italia. Tu hai gestito a un certo punto il franchise di Benetton in America, tra l'87 e l'89. Esatto. E lì ero un po' assistente di Luciano Benetton e un po' rappresentante Benetton, per cui ho vissuto praticamente con Luciano tre o quattro anni, viaggiando in lungo e in largo per il mondo. E lì è stata una grandissima scuola. Intanto da Luciano c'era da imparare perché è una specie di genio. È una persona che ti trasmette sempre tranquillità ed è geniale. Tu capisci quando sei vicino a qualcuno di geniale. Mi ha sempre detto che non bisogna mai perdere del tempo con quei che non valgono niente, sia sul lavoro che nella vita. Perché dice il tempo è prezioso, devi sempre spendere per il tuo futuro, per le intuizioni che deve avere i commerciali. E io ho fatto 4-5 anni con Luciano, finché poi è successo che sono uscito dalla Benetton, anche perché abbiamo rivenduto tutti i negozi. E per me è stata la prima volta che ho fatto veramente i soldi. Cioè soldi che allora, se parli di adesso, non era una gran cifra, ma ai tempi era il primo milione, milione e mezzo di euro, di dollari. Quindi il primo miliardo di lire. Il primo miliardo di lire. E invece di... cosa ho fatto? Sono stato per un anno nei Caraibi, senza mettermi mai le scarpe. Perché credo che il lusso vero era quello non di avere un miliardo di lire, ma di quello di dormire fino alle undici e non metterti le scarpe e camminare sulle spiagge. Questo era un po'... Poi sono rientrato alla vita reale, perché dopo un po' anche camminare scarso ti rompi, per cui hai bisogno di altra motivazione. Tu ti ricordi il momento in cui hai fatto il tuo primo milione di euro? Cioè quando sei diventato milionario, ai tempi era miliardario. Ti ricordi quando hai raggiunto questo achievement? Quando ho venduto i negozi Benetton, perché noi a un certo punto siamo usciti e abbiamo venduto i negozi che avevamo, per cui dando la possibilità ad altri di subentrare. Io ho fatto il mio percorso e non avevo più l'emozione. Perché sai, il lavoro che tu fai, lo fai perché ti emoziona. Quando finisce l'emozione, ma chi te lo fa fare? Quando economicamente sei indipendente, no? Certo. Per cui la vita è fatta di emozioni. Quando perdi l'emozione, io ho perso l'emozione per i negozi, per discutere con i clienti, parlare di campionari, c'è finito. Poi non era la mia voglia di fare, non era quella. Era la prima avventura. Era la prima avventura, per cui le prime avventure ti rimangono dentro, te le ricordi, però sai che non è la tua vita. Per cui ero in attesa di vedere cosa succedeva di meglio. Facciamo un passo indietro. Prima di lavorare con Benetton, tu inizi la tua attività. Con la Conafi, tramite la Conafi che abbiamo parlato prima, la Conafi era una licenza di un agente di cambio, per cui a Cuneo avevo creato una borsa. La gente, quando andava davanti alle banche, sai io vedo sempre la gente davanti alle banche che guardava la vetrina con la televisione e con gli stili. Io gli ho detto, ma stavano in piedi due o tre ore. Gli ho detto, ma perché c'era un barretto sotto. Un'ospitality. Un'ospitality. Che invece di stare in piedi al freddo a vedere cosa succedeva, i titoli vari, sei in un ambiente giusto, rilassato, eccetera, eccetera. Ed è nata la Conafi. Ho avuto la fortuna di avere due o tre dei più grossi operatori di Cuneo che sono venuti a nostri clienti. Questo ha funzionato molto bene. Poi c'è stata la possibilità della Cuneo Leasing, che è stata la prima società di leasing fatta in Italia. Anche lì l'ho lanciata con un altro amico mio e poi anche lì è stata poi venduta. Venduta De Benedetti. Esatto. E tu ti ricordi quando hai ricevuto l'offerta da De Benedetti? Cioè hai accettato subito o hai pensato di tenere l'azienda? Non ci ho pensato neanche un secondo. Sembrava una storia che sei partito da niente, hai creato una roba dopo due anni, c'è un'offerta importante, importante sempre limitato il periodo. Considera che io vivevo a Cuneo, mi ricordo che pagavo di affitto 30 o 40 euro paragonate adesso al mese. E avevo una casa da 150 metri quadri, per cui le proporzioni... E a quanto l'hai venduta? Te lo ricordi? Non mi ricordo. Credo che io avessi preso, parlando di giorni di adesso, di soldi di adesso 400-500 mila euro. 500 mila euro. Però è stato un buon inizio, un buon inizio. Sì, assolutamente. E fare business a Milano, secondo te, è ancora oggi una questione di contatti? Cioè secondo te è cambiata la situazione o si frequentano le stesse persone con le stesse logiche negli stessi posti o il mondo è cambiato da questo punto di vista? Cioè in Italia esistono spazi per fare network, conoscenze, trovare investitori rispetto a quando hai iniziato tu? Guarda, io non conosco il mercato di Milano perché in effetti sono anni che non investo in Italia. Ti dico che Milano è sempre una piazza... In Italia è sempre un fatto di conoscenze, il fatto di conoscere chi è il presidente di quello, chi è il presidente di quell'altro. Io in Italia faccio pochissimo, anzi faccio assolutamente poco, faccio quasi niente. Anche perché quando si è abituato a lavorare in un mondo anglosassone è completamente diverso. Se tu c'hai un'idea la porti avanti, se le idee varie ti supportano. In Italia vai molto avanti per conoscenze, questo è un amico di quello, questo è un amico di quello. Cioè è ancora un sistema vecchio in Italia. Tu vedi che quando parli di fare delle start-up in Italia, un ragazzo che vuol fare una start-up spende tra notaio e tutto quanto 80-90 mila euro. Ma non è che tutti hanno 80-90 mila euro per fare delle start-up. Tu vai negli Stati Uniti, ci sono mille banche che finanziano le start-up e logicamente c'è un comitato che vede se ha senso o no. Creare una start-up ti costa 50 euro, 100, 1000. Sì, sì, c'è meno burocrazia anche. Poi c'è la burocrazia, i permessi, i bolli, i timbri. Qui è tutto burocrazia perché è un paese che non ama chi fa impresa. Per cui è un paese ostile per gli operatori perché chi fa impresa ha sempre problemi. Qui è un paese che vorrebbero più o meno tutti uguali, che tutti più o meno stessero sulla stessa linea. Se uno è ricco la gente si incazza, se uno è povero la gente, poverino è povero. Però è un paese dove non permette alle aziende di crescere. Poi ci sono delle aziende, però è un paese che sta in piedi perché ci sono tanti piccoli imprenditori in Lombardia, in Piemonte, in centro d'Italia, che non sanno neanche dove è Roma. Sono questi che tengono in piedi l'Italia. Queste piccole aziende di famiglia, questo tessuto incredibile forte di gente che la politica non sa neanche chi sia il politico, non sa neanche di Roma di cosa parla. Sì, sì, infatti a proposito di aziende familiari, tu nel 77 vieni nominato amministratore delegato di Paramatti, una società produttrice di vernici. E diventi così il più giovane amministratore delegato di un'azienda italiana quotata in borsa non a gestione familiare. E volevo chiederti appunto cosa pensi delle aziende a gestione familiare? Pensi che sia il modello più diffuso in Italia? Sì, sicuramente. È il tessuto più forte che c'è. Poi c'è le grandi big company come in tutti i paesi. Ma il tessuto che tiene in piedi il paese è proprio questo. È quello dei piccoli e medi imprenditori che hanno le aziende da 20, 30, 40 dipendenti che hanno tecnologia, che hanno saper fare. Se tu vedi che i francesi perché investono in Italia, anche nella moda, no? Ci sono dei contoterzisti che lavorano per il gruppo Recem di Arnault, ma lui non li va a comprare in Francia, li copre in Italia, perché sono i più bravi di tutti. Sicuramente c'è una storia dal punto di vista produttivo. E c'è una passione, vede? C'è una passione, perché la passione di questa gente qui è di questi che dovremmo premiare, perché questo qui può convincere il figlio a continuare a fare il suo lavoro. E avere un'età media, basta, perché sennò questi lavori qui finiscono. No, sono d'accordo. Io faccio parte di chi ha iniziato un'azienda. Tu immagina, io ho iniziato la mia azienda, che è esattamente quello che hai descritto tu. È un'azienda gestione familiare. Ho iniziato con mia madre, abbiamo imparato insieme a gestire un'azienda da 40-50 persone. Credo ci sia anche un tema di fiducia e di competenze. Cioè è molto difficile, se parti con una struttura familiare, poi delegare e trovare persone di cui ti puoi fidare, che non siano i tuoi familiari. Lì, magari sai, a scapito di competenze preferisci magari dare a chi ti puoi veramente fidare, no? E magari far raggiungere quelle competenze alla persona o al gestore della tua famiglia a livello aziendale. Però vorrei arrivare, vorrei con te, arrivare nel momento in cui nel 1989 ti nominano direttore della scuderia di Formula 1. Benetton Formula. Tu qui hai dei primati importanti, perché hai avuto la capacità di identificare talenti emergenti tra i piloti, non con pochi grattacapi. Cioè quello che ha scoperto Schwaker sostanzialmente. Ti ricordi quando c'è come, cosa hai visto in lui e se hai avuto poi delle frizioni al tuo interno, su puntare su un pilota così giovane? Partiamo da un presupposto che la Formula 1 è un circolo molto distretto. O c'hai il motosport come background? O se no non vale niente. Io sono arrivato in Inghilterra, era la prima volta che andavo in Inghilterra, io non conoscevo Londra, non conoscevo Inghilterra. Luciano Benetton mi aveva portato a vedere un Gran Premio in Australia, Adelaide. E poi salendo sull'aereo e mi dice, sai, abbiamo un team, ci costa una fortuna, eccetera, eccetera, nessuno parla inglese, mi fareste un favore. Luciano che mi chiede un favore, che io do tutto a lui, non c'è problema. Puoi andare in Inghilterra e vedere come funziona sto team, perché qui non capiamo veramente cosa succede. Sappiamo che ci costa i tempi 7-8 milioni di Stalin all'anno, però non capiamo i benefici, non c'è competitività. Vado in Inghilterra e dividevo il mio appartamento con Alessandro Benetton. Alessandro lavorava alla Goldman Sachs, faceva apprendistato, si faceva un mazzo. Mi ricordo che lui arrivava la sera alle 10, da 5 metri ci alzavamo tutti perché mi faceva un'ora e mezza di macchina. Per cui sono arrivato nel team con un incarico amico di Luciano Benetton, che è la roba più sfigata che puoi avere, vuol dire che non conti un cazzo. Tu vai in un'azienda, chi è quello lì? Ah, è amico del padrone, ma vaffanculo. E di che mansioni avevi? Nessuna. Guardavi? Guardavo. E la gente, tu pensa che tutti inglesi, dicono che ho i capelli lunghi, abbronzato, quando sono arrivato fuori da Londra, l'abbronzatura è andata via, con la nomina di pseudo playboy, eccetera, eccetera, per cui non mi piglia nessuno sul serio, ho detto Luciano, io qui perdo del gran tempo, questi qui proprio non mi filano di striscio, è un'azienda, gli ho detto, è come degli impiegati statali, loro di vincere non gli interessa, gli interessa di fare quel lavoro che è la loro passione, con i tuoi soldi, il quadro è quello. Mi dice, no, ma se io facessi un po' il direttore commerciale, gli ho detto Luciano, dobbiamo sederci e capire perché io devo tornare a New York, io ai tempi avevo un buon rapporto con Donald Trump, per cui anche lui mi ha proposto di fare cose Atlantic City, eccetera, eccetera. Quindi più nell'edilizia. Più nell'edilizia, no, quando stava costruendo gli alberchi Atlantic City, era più marketing, tutta la roba di marketing, portare i giocatori dal Brasile, dalla Spagna, eccetera, eccetera. Luciano mi dice, no, ma allora siamo andati a Treviso con tutta la famiglia, mi dice, allora Flavio fa il direttore commerciale di questo, eccetera, eccetera. Dopo due mesi, credo, due mesi, ho licenziato il managing director. E Luciano mi chiama e mi dice, ma scusa, mi ha detto che non te ne voglio occupare, mi mandi via metà della gente. E lui mi dice, adesso ti creo il team e poi siamo tornati a Treviso e lui mi ha fatto la proposta che mi davano il 30% del team, tanto tutto ufficiale, se me ne sarei occupato. Mi sono trasferito da New York, mi sono trasferito a Londra e di lì in avanti è iniziata l'avventura. L'avventura iniziata è che, come tutte le cose, non è che devi essere pratico di una cosa, perché se uno fa il manager della Fiat, presidente della Fiat e poi fa presidente dell'American Express, non cambia niente, devi sempre gestire persone. Certo. Cioè non è che devi gestire, il prodotto cos'era? Era una macchina fatta da 3.500 componenti, per cui quello era il prodotto. Per essere vincente sul mercato doveva andare forte. Non era una macchina. Era più tenere, che è la cosa più difficile, credo, in un'azienda, costruire una squadra propedeutica al successo. Esatto. E la motivazione. Poi praticamente siamo partiti di lì. Ho preso queste azioni che mi ha dato Luciano Benetton e dopo… il 30% del team Benetton. Del team Benetton. Sì. Ok. Quindi avevi delle quote all'interno… All'interno del team, assolutamente. Questa era una delle mie condizioni per rimanere. Ed era una condizione di Benetton per motivarmi. Beh, sì. Infatti immaginavo proprio che fosse… Cioè, se andava bene… Dato che Luciano ormai mi conosceva come… come nessun altro, per cui mi ha detto, se io obbriatore non motivo, è riuscito con la Benetton a vendere vestiti, che aveva mai visto un pullover in sua vita, riuscire anche a fare una macchina che funziona. Poi di lì, reputazione zero, perché noi eravamo dei t-shirts maker. Certo, non eravate dell'ambiente. No. Io mi ricordo che Frank Williams, Ron Dennis, non mi salutavano. Cioè, ma proprio non mi cagavano di striscio. Proprio… Io sono tra di me. Prima o poi comincerete a salutarmi. Comunque ho fatto il lavoro e quando c'era il team messo più o meno assieme, con chi è rimasto, qualcuno ha seguito il vecchio amministratore delegato, qualcuno è rimasto, cercando di motivare tutti quanti, ho detto ragazzi, dobbiamo dimostrare a tutti quanti che possiamo farcela. Avevamo un problema di budget, ho trovato subito degli sponsor, grazie alle mie conoscenze americane, ho trovato la Gillette, ho trovato la Seven Up e altri sponsor, per cui non chiedevo soldi alla famiglia e per loro questa era la roba più importante. Abbiamo iniziato così. Poi ci volevano i piloti, logicamente. E parlando con i miei, ho detto, noi, i piloti importanti da noi non vengono, tipo Senna, Gerald Berger, Patrese, I Tempi, eccetera, eccetera. Eravate considerati un team minore? Avevamo considerati un caro, nessuno. Un team di merda. Neanche un team di merda. Un team di merda. E a quel punto lì ho detto, vediamo di trovare un giovane che cresca con noi. Allora non c'erano i giovani piloti, tipo i Van Stappen della situazione, nati adesso, gli Alonso che poi ho preso dopo. I predestinati, diciamo. C'erano i vecchi, c'era Prost, c'era Senna, c'era Nigel Mansell, c'era questa gente qui, ma da noi non ci fidavano proprio. Allora gli ho detto, dobbiamo cercare nelle serie minori, perché se qui non c'è nessuno, dobbiamo andare sotto. E ho chiamato questo Peter Kondi, Sauber, che aveva delle squadre di Mercedes, gruppo C, erano macchine con moto downforce che andavano molto veloci. E lui mi ha fatto tre nominativi, mi ha fatto Frenzen, Werdinger e Schumacher. Mi ha detto, tra i tre, Frenzen credo sia il più veloce. E vado dai miei e gli dico, ragazzi, questi sono i tre piloti che dobbiamo investigare. Ho mandato dei meccanici, degli ingegneri a vedere le gare, tutte le gare erano più o meno sempre in Germania, e arrivava il rapporto. Il rapporto era più su Schumacher che non su Frenzen. Poi succede che Jordan perde un pilota perché ha litigato con un taxi a Londra, l'hanno arrestato, e Jordan mette in macchina Schumacher. Ho detto ai miei, vedi, cazzo, ti ho detto che dovevamo prenderlo subito, no? Ho detto, adesso... Cos'è, Jordan era un'altra scuderia? Un altro team. Allora gli ho detto a loro, dovevo occuparmene io. Don in avanti, i piloti ci sono solo io. Quindi ti hai lanciolato Schumacher all'inizio? Non è che mi hai lanciolato, io non l'avevo fatto ancora, io non avevo fatto nessun contratto. Però abbiamo capito tutti, che tutti l'hanno visto, che era qualcosa di speciale. Poi in gara ha fatto tre giri, c'è rotto il cambio. Io il giorno dopo avevo Schumacher in ufficio da me a Londra. Perché? Perché lui aveva, sì, un'opzione su Jordan, ma doveva portargli 400 mila euro. C'è un giorno che ha detto, io ti faccio continuare a guidare per me, ma mi devi pagare 400 mila euro. Perché? Beh, è pieno di piloti in Formula 1 che pagano per guidare. Che pagano per guidare? Certo, ma lì c'è gente che paga 20, 25, 30 milioni, 40 milioni per correre. Porca miseria. Hanno gli sponsor che li supportano. Chiaro. È nata così. Schumi, dopo mille peripezie, firmiamo un contratto. E tu, cioè, la condizione per prendere Schumacher era ti faccio guidare senza mettere soldi dentro? Senza mettere soldi. Anzi, assieme gli avevo portato uno sponsor che si chiamava Tic Tac. Le Tic Tac, certo. Che sono le famose caramelle della Ferrero, che allora mi sembra fosse una sponsorizzazione di 300, 400 mila euro. Per cui gli ho detto, tu con me guidi Formula 1 senza dover pagare nulla. Ci pensiamo noi. La prima volta che Schumacher è salito sulla macchina nel Gran Premio di Monza, e subito è stato competitivo. Dopo un mese tutti quanti parlavano di Schumacher. Tu hai vinto, grazie all'acquisto di Schumacher e di tutta la squadra che hai messo in piedi, hai vinto il campionato mondiale piloti nel 94 e di nuovo nel 95. E il costruttore nel 94. E hai vinto anche il campionato mondiale costruttore. E' pazzesco una storia che comunque, come dicevi tu, non ti appassionava, non venivi da quel mondo, ma avevi maturato delle esperienze in tal senso che vertevano più sulla costruzione di un team e come gestire una mole di un po' di un po' di un po'. Da quante persone era composto il team? Avevamo 120-130 persone dalla parte chassi e un centinaio dalla parte ingegneria ai tempi 250 persone. Quindi diciamo che il tuo know-how è stato la capacità di, credo, A, motivare, B, metterle insieme e C, gestirle. Di gestirle. Però tu c'hai questa azienda qui, se tu domani vai a un'altra azienda, è la stessa roba. Magari è un tema diverso, non fai questo tipo di lavoro, ne fai un altro. Ma il concetto è sempre che tu qui fai un prodotto, devi fare un altro prodotto, ma devi sempre fare la squadra. Sì, sì, assolutamente. Nel 1997 lasci il tuo ruolo nella sconderia Benetton per fondare la Supertech, quindi un produttore di componenti di motori. No, la Supertech era un nome che mi sono inventato io, non esisteva. Allora, io sono uscito dalla Benetton per un semplice fatto. Luciano Benetton mi ha chiesto se poteva affiancarmi suo figlio Rocco. E io gli ho detto no, Rocco è il figlio del proprietario dell'azione di maggioranza. Per me non è che faccio la scuola guida, gli ho detto non va bene. Cioè o io rimango con i pieni poteri o se no vendo, voi mi acquistate le azioni e io faccio qualcos'altro. È stata una lunga discussione ma sempre in un mondo super amichevole. Non avete mai rovinato i rapporti? No, ancora adesso io e Luciano ci sentiamo due o tre volte al mese. L'ho visto Dubai due settimane fa. A questo punto qui Luciano ha dato un incarico all'amministratore delegato Benetton Group di comprare le mie azioni. Dici un po' quanto le hai vendute, dai. Ero ufficiale sui 10 milioni, credo. 10 milioni? Adesso è difficile di parlare. Allora era più conosciuta la Benetton Formula 1 che Benetton con 7 mila negozi. Abbiamo rimotivato tutto il gruppo. Io mi ricordo quando facevamo le riunioni a Treviso con i piloti di Formula 1, con il basket. Perché sai che Treviso avevano fatto una roba incredibile, Benetton. Certo. Palazzo Verde era una roba, erano campioni d'Europa, di rugby, erano campioni d'Italia, di pallavolo, campioni d'Europa di pallavolo, palacanestro, campioni europei. Per cui lì era Gilberto che era un grande appassionato. Però arrivamo noi della Formula 1, era un'altra roba. Terevissimamente era lo sport rispetto a tutti gli altri che facevamo già degli odi e sono molto importanti. Per cui diciamo che la Benetton è stata, per me è stata casa mia, è stata casa mia e quando sono uscito, alla fine quando sono uscito non ero amareggiato. Era finito un ciclo. Schumacher era andato alla Ferrari, Ross Brown che era il mio direttore tecnico era andato alla Ferrari, Pat Simons che era il mio braccio destro, andando via io era andato anche lui fuori. Per cui... Ognuno ha preso la sua strada. Ognuno ha preso la sua strada. Sempre mantenendo un super rapporto. Poi cosa succede? Succede che voglio fare un anno sabatico, ma dopo due settimane penso, ma secondo me ci sono delle squadre che non c'hanno... Sai, le notizie, le news, no? Che non c'hanno motori, perché tutti dicono che la Honda arriva in Formula 1, tutti dicono che la Ford arriva in Formula 1. Prendo il suo mio amico Bruno Michel che poi è diventato il mio braccio destro in tutta la Formula 1 e gli dico, ma scusa un po', ma la Honda per me non è te la Formula 1. E Bruno mi dice, no ma tu fai un anno sabatico, stai tranquillo. Prendo il telefono e mi ricordo che ho chiamato il capo della Honda, Kawamoto, il capo dello sport della Honda e gli ho detto, ma sorry, voi state rientrando in Formula 1 qua? No Flavio San, no, why? I know, there's some news, fake news in the newspaper. Ok, thank you very much. Chiamano a Ford? No. L'ho detto, Bruno, qui c'è un deal da fare, permette che qui non c'hanno motori. Perché in Formula 1 sono talmente pieni di ego, che pensano sempre che tutto è dovuto, pensano che la Honda ritorna in questo. Allora ho detto a Bruno, se noi compriamo una fabbrica di motori, tu vedrai che andiamo a vendere i motori questi qui. Con tutte le conoscenze che avevi acquisito negli anni. Assolutamente, perché chiamare Kawamoto se non aveva un rapporto, cavolo lo chiami. Quindi vi siete messi a fare motori verticali? No, no, sono andato dalla Renault, perché la Renault era uscita. Quando io sono uscito dalla Benetton, anche la Renault che era fornitrice di motore è uscita. Però avevano sugli scappari 300 motori di Formula 1. Io sono andato dalla Renault e gli ho detto, mantenete i dipendenti che avete, ve li pago io, faccio un affitto d'azienda. Perché se no perdete tecnologia, se un giorno volete rientrare, non domani in Formula 1, perdete, perché chiamano della gente molto brava. Certo, poi è un mondo che se non sta a passo col tempo rischia di... Loro rischiavano, erano 250 dipendenti, ho detto, pago io, faccio un affitto d'azienda... Cioè hai affittato il loro ramo d'azienda che si occupava solo di motori per la Formula 1. Però mi hanno detto, ho una condizione, quando mi hanno fatto l'accordo, che non li chiami Renault. Infatti io l'ho chiamato Super Tech. Super, come testa mia, e Tech, come potremmo dire tecnologia. Vabbè, è un nome altisonante che ti fa pensare a qualcosa di tecnologico. Ed è nata così. Poi abbiamo, alla fine avevo ragione io, perché abbiamo dato i motori alla Benetton. Perché poi mi ha chiamato Luciano Benetton. Luciano Benetton dice, ma i tuoi motori come vanno? Gli ho detto, Luciano, ma tuo figlio c'è l'accordo con la Ford. Ma no, ma forse no. Poi la Ford non è entrata, l'onda non è entrata, abbiamo dato alla Williams. L'abbiamo dato alla Benetton, l'abbiamo dato alla Bar. Abbiamo dato i motori a quattro team. Per cui voleva dire, di nuovo, sui circuiti, un centinaio di persone. E che fine ha fatto poi la Supertech? La Supertech è stata comprata dalla Renault. Cioè la Renault si è ricomprata la sua azienda. Certo, eravamo d'azienda. A quanto? Non me lo ricordo. Ma lì è stato un passaggio molto intelligente. Perché la Renault a un certo punto mi chiamano, mi dicono, vogliamo rientrare in Formula 1. E grazie a te abbiamo ancora la tecnologia. Perché poi loro, io sì che pagavo un affitto per i motori, ma loro investivano anche soldi. Perché poi fare l'upgrade dei motori ogni gara, pezzi di che si rompevano. Per cui loro sono stati di una correttezza enorme. Loro mi hanno detto, vogliamo metterli in Formula 1 con un team, why piece of paper? Gli ho detto, no, non sono interessato. Cioè, o compriamo un team esistente. E loro mi dicono, ma che team compreresti? Gli ho detto, la Benetton. Chiamo Luciano e gli dico, Luciano, guarda, l'esperienza con suo figlio non è che è andata benissimo, ma non benissimo. Gli ho detto, guarda, la Renault è disposta a comprare il team, tutto il team. Si è disposta a vendere? Ti do una risposta domani. Gli ho detto, sì, sì. Troviamo un accordo sull'economico e vendiamo. Per cui la Renault compra, la Benetton, io rientro nel mio vecchio ufficio. Ha solo cambiato il nome del brand, sostanzialmente. L'ufficio, la mia scrivania, me l'avevano spostata, l'ho rimessa dove era prima. E abbiamo iniziato l'avventura con la Renault. Praticamente sono state due cose, due film, se vuoi, con un regista solo e due attori importanti come Schumacher e Fernando Alonso. Perché poi tu hai scoperto anche Alonso. E abbiamo vinto quattro campionati. Avete vinto due titoli mondiali piloti e costruttori nel 2005 e nel 2006, se non sbaglio. Quattro titoli mondiali. No, mica male. Per uno che non ci capiva un cazzo. Per uno che non ci capiva un cazzo. Potremmo anche andare peggio. Nel mezzo, tra Benetton e Renault, nel 1998 decidi di fondare un locale di lusso a Porto Cervo in Sardegna. Che si aggiungerà poi al Twiga di Forte di Marmi nel 2001, se non sbaglio. Sì, prima. Sì, prima. Che oggi forse è la prima cosa a cui pensi se pensi a Flavio Briatore. Sì, è incredibile. Sì, è incredibile. Perché alla fine era un locale... Ma io l'ho fatto perché adoro la Sardegna. Però non c'era un posto dove andare. Cioè, andavo lì e ti rompevi. Perché non c'era una discoteca, non c'era assolutamente niente. Non era ancora arrivato... Come si chiama lo sciuro che ha investito quello che si dice che abbia fondato... La Gacan. La Gacan. Che salutiamo troppo niente. Ciao la Gacan, numero uno. Era già arrivato, stava facendo, però non c'era. E inizialmente questa qui abbiamo affittato una villa. Io ho detto, perché non affittiamo una villa così? Organizzo con i miei amici, tutti i ragazzi che venivano in Sardegna perché erano giù noi. Il mito di Briatore, secondo te, è esploso quando già eri in Formula 1? Sì. Sì, cioè la tua popolarità... Io credo che la popolarità è data. Facendo delle idee. I ragazzi specialmente. Perché se tu vedi il mio Instagram, il mio Odds, tutti i ragazzi giovani. 25, 35, no? Quell'età lì. È nato un po' con tutto. Le macchine sono la passione di tutti i giovani. Formula 1. Poi ho avuto un flirt di tre anni con Naomi Campbell. Che salutiamo. Ciao Naomi. Ciao Naomi. Che questo è stato, nella mente della gente, è stata una roba... Mediatica. Mediaticamente. Naomi era il numero uno. Per cui un italiano... Perché poi c'era il tifo, no? E diceva, vai, c'era il tifo su con chi uscivi. Un italiano che si fidanza con Naomi Campbell. Credo sia stato un po' un mix di tutto questo, no? Vincere. Vincere con la Formula 1 per 1 vuol dire che dai la possibilità a tanti ragazzi che non sanno cosa fare e di dire, cazzo, ma se c'è riuscito Briatore posso riuscire. Di essere un modello aspirazionale. Capisci? Per cui devi sempre guardare lontano. E secondo me dai la possibilità a tanti ragazzi di dire, ma se ce l'ha fatta lui, ma perché non posso farcela io? Allora, tutto questo è stato un po' un cotte di cose che ha fatto sì che la mia visibilità fosse, forse, a quei tempi lì molto forte. Chiaro, chiaro. Quindi al billionaire tu eri già al tuo top quando hai fondato il billionaire. Sì, sì, al billionaire già top ce l'ha già. E lì immagino sia stato fondamentale sfruttare anche la componente di personaggio pubblico. Ma lì è proprio nata per prendere una villa per invitare gli amici, poi l'affitto era niente, avevamo speso niente per farla. Io non so se l'hai mai visto il billionaire prima, c'era una piscinotta di 12 metri. Era una villetta. Era una villetta. Però non facevamo entrare a nessuno se non era amico mio. E a un certo punto si fermavano delle code per la strada di 3-4 chilometri. Allora ho detto, cazzo, però facciamo un locale il prossimo anno, lo mettiamo a posto e facciamo un locale. Vedo i progetti, credo che fassimo speso 150-200 mila euro a rifare il locale. Poca roba. Poca roba. E poi mi chiama Alessandrelli che era il manager e mi dice, ah, dobbiamo, deve decidere il nome, perché nessuno ha deciso il nome. E mi mandano una lista, sai che c'era sottovento, sopravento, stella maestrale. Quindi i nomi di lì di balneari. Sì, sì, tutte cazzate. Ho detto, no, dobbiamo avere un nome che la gente si ricordi. E io ho detto, mi è venuto in mente che quando ero ragazzino che avevo 18 anni, ero andato a Monte Carlo perché io non avevo mai visto un ricco. Perché alcune... Come se andassi allo Zoti. Bravo. Ok. Mi piace questa visione di vedere i ricchi come degli animali in gabbia, delle gabbie dorate. E siamo andati con una 500, abbiamo fatto il colle di tenda, siamo andati a Monte Carlo, siamo stati affascinati. Io mi ricordo Cacioghi, che era ragazzino quasi, con uno smoking bianco, con una figa della Madonna alta a due metri e mezzo. Lui era a Tune 60, non 62, diciamo, ma noi donne belle così le avevamo mai viste. Cioè a Cuneo, con tutto rispetto per tutte le ragazze che ci sono, salutiamo tutte le ragazze di Cuneo, allora non c'era proprio tanta roba di vedere. Cioè io prima volta che avevi dei vestiti lunghi, vedevi queste cose qui, di uomini col black tight, eccetera, la ricchezza. Allora quando mi è venuto in mente il nome, io ho detto, ma cazzo lo cambiamo a bilionare. No, no, ma no, no, non si può chiamare bilionare. È troppo sborone. È troppo sborone. Allora si perde, vedrai che quel nome lì se lo ricordano tutti. Infatti è partito di così, è il bilionare. Quindi la Sardegna era già stata lanciata da Gacan? Sì, la Gacan era già stata lanciata, più che altro c'era i tempi di Portorotondo, perché perde Portorotondo, poi la Gacan ha fatto Portocervo, però è nato così, il bilionare in effetti è nato così. L'anno dopo abbiamo aperto come discoteca. E ad oggi in che stato, cioè rispetto, quanti bilionare avete nel mondo? No, ma adesso bilionare è quel che abbiamo meno. Adesso abbiamo Dubai, che è grandissimo. Diciamo che Dubai è il vero bilionare. Era proprio il mio concetto che non puoi farlo in un posto in Sardegna che dura, una stagione dura due mesi, per cui parliamo di artisti, c'è il bilionare a Riyadh, c'è il bilionare a Dubai, c'è il bilionare in Sardegna, c'è il bilionare a Doha. Siamo in negoziazione per Vegas e per Miami. Questi sono i bilionari. Wow, wow. E ad oggi quanto sposta la sede in Sardegna? È più, diciamo, un simbolo o riesce a pesare ancora? Quello che ti vorrei chiedere è lo stato di salute del turismo in Italia, cioè vorrei prendere la palla al balzo per capire se ha ancora senso investire in questi settori. Sul turismo, senz'altro. Partiamo da un prodotto incredibile che è il Paese, dove facciamo tutto il possibile per mandar via la gente, ma non ci riusciamo. Ci impegniamo al massimo con regole, regolamenti, burocrazia, eccetera, eccetera, ma il Paese è talmente bello, per cui la gente viene comunque. E specialmente in Sardegna, ma anche a Forte dei Malmi, c'è un turismo molto importante, c'è un turismo ancora molto importante e credo che il futuro del turismo italiano deve proprio concentrarsi su gente che lascia un indotto importante. Io l'altra settimana ero a Venezia, no? Tu non puoi camminare, ma perché non gli facciamo pagare 10 euro al giorno questi che vengono a Venezia, ma vedi, tu non puoi camminare, tu non puoi passare, sono milioni di turisti. E gli fai pagare 10 euro al giorno per fare qualcosa? Per vedere la Venezia. Quando tu vai a vedere un museo ti pagherai, no? Chiaro. Perché pulisce le strade, perché poi ti lasciano qualunque cosa per terra, no? Chiaro. Quindi pagare l'accesso a una città? Certo. È legale? Non lo so, ti chiedo. La fai diventare legale. Ok. Ma scusa, quando vai a un museo pagherai qualcosa, no? Sì, non so se entrare in una città e far pagare l'ingresso... È una tassa turistica. Una tassa turistica. Fai pagare una tassa turistica che il comune o chi per esso gestisca. Sì, sicuramente non credo ci sarebbe una flessione della mole di turisti. No, ma quel che perdi è perché non ti interessano. Chiaro. Lo vedi? Perché poi c'è gente che... Ma per carità, ma pagliamo di 10 euro, non è che chiediamo... Però ho visto... Ma non riesci, cioè, è impossibile camminare. Allora dico, i musei che abbiamo, noi dobbiamo esporre di più i beni che abbiamo in Italia. Dobbiamo essere tutti quanti più consapevoli che il turismo è la prima azienda italiana. È l'azienda vera, perché ce l'abbiamo. Cioè non è qualcosa che dobbiamo creare, è qualcosa che esiste. Dobbiamo esportarla, dobbiamo essere più selettivi, dobbiamo avere più trasporti. Tu vedi anche la situazione, tu vedi a Dubai, chi ha fatto Dubai è Emirates. Cioè Emirates più da qualunque parte del mondo. Italia parte, partono da Catania, partono... Vai diretto sei ore, arrivi all'aeroporto di Dubai, passi in quattro minuti, cinque minuti, sei fuori. Cioè noi non abbiamo neanche una compagnia nazionale. Non abbiamo una catena alberghiera nazionale. Per cui dobbiamo investire sul turismo. Assolutamente, sono d'accordo. Mi sono perso due o tre domande sul capitolo Ferrari. Perché tu a un certo punto hai promosso il GP2 Series. Ci vuoi raccontare cos'è? Allora, era molto difficile capire se un pilota che arrivava in Formula 1 arrivava perché aveva finanziariamente degli sponsor molto importanti. e c'erano dei piloti molto bravi che non avevano nessuna chance di arrivare in Formula 1 perché non avevano né il padre con i soldi né lo sponsor con i soldi. A tuttora ad oggi la Formula 1 è un ambiente super elitario. Esatto, però adesso la GP2 si chiama Formula 2 però ci sono 20-24 piloti che chi vince... Perché la mia idea era molto semplice. Le macchine devono essere uguali per tutti, nessuno le può toccare. i meccanici, gli ingegneri, il numero delle gomme deve essere limitato e vedevi veramente lo skill del pilota. Dove l'hai dato Hamilton? Sono nati Rosberg. Infatti Hamilton, non vorrei azzardare, tu lo sai meglio di me, credo che sia uno dei pochissimi piloti che è veramente parte dal nulla. No. Che non è realmente ricco. No, 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 però Hamilton ha trovato un supporter che era Ron Dennis, un team clare che ha creduto in lui. Io mi ricordo Hamilton quando faceva i go-kart, aveva 7-8 anni, veniva Jagger prima di Formula 1, perché Ron Dennis aveva capito che era... Un talento. Un talento l'ha sempre supportato. Però è uno dei pochi casi, mi sembro confermire, di pilota che veramente parte da zero. Anche Fernando. Però quella serie lì della GP2 era proprio per dare a tutti i piloti la stessa macchina e vincere il migliore. Giocare ad armi pari, non chi ha più soldi ha più vantaggio. Non chi ha più soldi, c'ha sospensioni diverse, carburare la macchina diversa, motori diversi. I motori li davamo noi, le macchine le davamo noi, per cui finita la gara non potevano toccare le macchine fino alla gara prossima. Ha avuto un successo enorme. L'hai venduta? L'ho venduta. Quanto? Non ricordo, centinaio. Di milioni? Sì. Centinaio di milioni. Ai tempi sì. È la vendita più grossa che hai fatto? No, spero. La exit più grossa? No, spero di farne molto più grande. Vabbè, ok, dimmi la exit ad oggi più grossa che hai fatto. No, 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 sì, sì, però era tutto il giornale, abbiamo venduto a quel prezzo lì. Cento milioni? Sì. Non male. Avevo dei soci, che non posso dire chi. Che salutiamo, però. Grazie, soci. Poi nel 2007 hai comprato una squadra di calcio, per non farti mancare niente, il Queen's Park Ranger. Sì. Insieme a Bernie Ecclestone. Esatto. E insieme al Bernie l'avete fatta promuovere in Premier. Sì. E l'avete venduta. Esatto. Ma lì è stata una vendita, lì abbiamo fatto male, perché questa squadra qui adesso può valere 500-600 milioni. non l'abbiamo venduta, perché io ero troppo impegnato in Formula 1. A Bernie non gliene pregava niente, di conseguenza al mattino calcio. Poi se io sono uno che se faccio una cosa ci metto il naso io. posso avere tutti i consulenti che vuoi, ma voglio decidere io. Per cui il calcio è un mestiere molto difficile, deve stare lì 24 ore al giorno. Perché lotti con i giocatori, con i manager, con gli agenti. Devi metterci la testa. C'è 200 persone che si alzano il mattino e pensano come fregarti. Per cui venduta, portata in Prime League, per cui la Serie A inglese, abbiamo fatto anche lì. Da ultima in classifica in tre anni, portata in Prime League e poi venduta. Beh, non mai, c'è un minimo di plusvalenza. No, no, sì, minimo. Minimo, minimo. Invece parliamo proprio di nel 2010, dal 2010 in poi ti sei dedicato a creare locali, servizi di lusso dedicati al tempo libero, delle persone più ricche, no? Hai creato la Holding Billionaire Life, dal 2021 adesso si chiama Magestas. Magestas, come vai Magestas? Non ho trovato il nome io, l'hai trovato i miei, a me piaceva, va bene. Io ho detto va bene, va bene. Non abbiamo niente. Sono i contenuti che contano. Sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Hai aperto le nuove sedi del Twiga, del Billionaire in tutto il mondo, come diceva. Dicevamo, e hai creato e integrato diversi marchi nel tempo. C'è stato Billionaire Couture, se non sbaglio. L'hai venduto a Filippo. Al Filippo, che salutiamo anche lui. Ciao Filippo. L'hai venduto al Filippo? Sì. Quindi mi sembra che comunque... Guarda, io sono un po' come te su questo. Cioè nel senso che mi appassiono per un periodo... Però non mi affeziono. Vendo anch'io. Vendo e poi vai, un'altra roba. Sì, mi piace questa cosa. Non puoi avere tutto sul tavolo, ogni cosa che fai deve essere concentrato. Tutto quello che non ti piace più, o che non vedi, che ti appassiona più, lo devi dar via. Sì, e poi a un certo punto, poi ognuno ha la sua visione, credo che essere anche un po' ripagato del sudore che hai versato verso un progetto, ti dia poi la spinta di affrontare magari un'avventura nuova. Poi magari investi anche molto di più in altri e poi puoi anche perdere soldi. E avete lanciato Crazy Pizza. Fa parte sempre del gruppo. Adesso il gruppo è molto semplice. È un gruppo che fattura, grosso modo, 87 milioni di euro e c'è un EBITO ufficiale di 17 milioni. 87-17 non male. Anche perché il 90% del fatturato è fuori dall'Italia. Quindi dici non hai le tasse italiane che gramano. Non solo le tasse italiane, è la complicazione. Noi è un anno che cercavamo di aprire un locale a Roma e non ci siamo riusciti. Perché la roba incredibile in questo paese è che invece di aiutare le aziende a dirti Fede tu investi in questa roba qui, quanti dipendenti assumi? Partiamo dall'incontrario. Non si può fare, non si può fare. E quando si può fare, c'è mille robe burocratiche. Cioè tu vai negli altri paesi e ti dicono subito sì, no. Volevo aprire una piccola parentesi perché tu tra il 2012 e il 2014 hai condotto secondo me uno dei programmi più belli della televisione italiana mi aveva super appassionato che è Apprentice Italia. Che poi è nato tutto, credo che l'imitazione di Crozza nasca in quel periodo lì, no. È una delle mie imitazioni preferite. Il tuo PA, il tuo personal assistant, è ancora oggi il vincitore di Apprentice Italia, se non sbaglio. Ha diventato direttore generale del gruppo, cioè si chiama Francesco Menegazzo ed è direttore generale del gruppo, è un ragazzo che ha molte responsabilità. Diciamo che è il mio braccio destro in questo momento, per cui ci avevo visto giusto, no. È stato un vero e proprio apprendistato. Assolutamente, perché l'apprentice era un lungo percorso di un CV di lavoro, no. Quando tu presenti il tuo CV, qualcuno viene da te e ti presenta il CV, tu lo vedi un'ora, mezz'ora. Io invece ce l'ho per due mesi, tre mesi, per cui è un colloquio di lavoro che durava tre mesi. Ti faccio una domanda, magari un po' provocatoria, ma tu quando devi assumere nella tua azienda guardi più il curriculum, quindi i titoli di studio o le esperienze maturate? Allora, io adesso gestisco solo il manager, non mi occupo più del... Io vado a feeling. Cioè a me del titolo di studio, dato che io non ne ho, sono tutti uguali a me, per cui ho tutti diversi, non mi cambia niente. Io guardo la persona, le risposte, la prontezza che hanno, il senso di humor, perché poi ci vuole anche quello, ci vuole... Io quando faccio le interviste io, poi alla fine decido... Tutti i manager li intervisto io, sono l'ultimo a intervistare. Poi vedo, leggo i commenti dei vari manager e poi certe volte ribalto completamente la situazione, cioè proprio quello lì non va bene. Non ti basi su master... Tutte pensate. A meno che non hai delle grandissime aziende, allora a quel punto lì... Però a livello nostro ti devi basare sul... Perché anche quando prendi i famosi cacciatori di teste, sono anche un po' delle teste di cavolo, perché loro spingono o non spingono in base alle percentuali che gli dai, per cui non sono mai veri, capisci? Sì, sono d'accordo. Devi sempre trovare... Tu devi avere... Come ho trovato Schumi, come ho trovato Pannado, tu devi avere il feeling che quando guardi qualcuno dice sto qui, le sue scarpe mi stanno bene. Ma no, non c'entra... Logicamente devo parlare inglese, deve sapere... Va bene, deve avere delle nozioni di base. Deve avere delle nozioni di base, però è sempre questione di feeling. Ti volevo fare un'altra domanda che avevo in mente, se tu oggi a livello imprenditoriale gestisci solo aziende in cui mi sembra che hai una forte presenza da leader, dove hai le redini in mano o fai anche dei piccoli investimenti su start-up, aziende giovani, hai quel tipo di feeling che investi anche in piccole realtà che potrebbero crescere nel tempo o cerchi di portare avanti solo progetti in cui tu hai il timone in mano? Allora, noi le start-up le creiamo noi, per cui c'è un ragazzo, ti faccio degli esempi, che non c'ha una lira, che però noi capiamo che è un ragazzo che ha delle qualità. Noi ti possiamo aprire, ti faccio un esempio, un crazy pizza, e lui lo gestisce e quando ha pagato i debiti nei nostri confronti diventa proprietario. Queste sono le start-up vere. Lui inizia a lavorare con salario con la possibilità di fare un escalation in 3-4 anni di essere proprietario, per cui noi investiamo nel gruppo sui ragazzi giovani, perché poi io sono sempre dell'idea perché adesso sai social media, poi tu sei maestro di questo. La differenza è enorme. Ti faccio un esempio. È venuta una ragazza due mesi fa al Crazy Pizza di Milano. La ragazza americana aveva fatto due TikTok nella sua vita, no? Due. Ne ha fatto uno, ha fatto, siamo a 60 milioni, 60 milioni di visualizzazioni. Abbiamo dovuto chiudere Seven Room, perché tutti i turisti vengono a Milano per vedere a che ora è lo show. Di quello che fa girare la pizza. L'ho visto anch'io il TikTok, raga, l'ho visto anch'io. Allora, capisci bene che tu pensa a quanti direttori marketing non riuscirebbero a ottenere quel risultato con una campagna dove paghi fior fior di soldi. Il costo nostro, neanche la pizza l'abbiamo aperta. Ha pure pagato? No, perché non sapevamo. Certo, certo. Nemmeno lei lo sapeva. Nemmeno lei lo sapeva. Allora ti dico, il mondo è cambiato, per cui hai bisogno di giovani, perché il vecchio direttore commerciale, il vecchio direttore marketing non vanno più bene. Quei che vanno alle fiere a vendere il suo prodotto non vanno più bene. Cioè ormai è tutta una questione di comunicazione. Riesci a fare dei video, riesci a fare delle... Ormai il mondo è in mano a una tecnologia che noi non conosciamo. Io cerco di aggiornarmi, però è molto più naturale che questa tecnologia la faccia un ragazzo di 20 anni che non io che cerco di capire per poter cercare di stare al passo. Chiaro. Quindi mi par di capire che comunque i tuoi investimenti vertano in qualche modo sulla verticalità del food and beverage e della ristorazione. Anche perché penso che il food and beverage non è che ti fai e puoi arrivare la bistecca da Amazon. Food and beverage è connected people, è socializing. Sì, sì, sì. I ristoranti saranno gli ultimi a cadere perché la gente va nel ristorante non solo per mangiare, per l'atmosfera, per l'energia. Per un'esperienza. Per esperienza. Per cui credo che il food and beverage sia uno dei settori che continueranno alla grande. Però deve avere un brand. Se non c'è un brand fai una difficoltà enorme. Deve avere un brand. Deve chiamarsi un brand che è conosciuto e di lì in avanti devi scalarlo, ovviamente. Assolutamente. E industrializzarlo. Allora, poco tempo fa ci sono state appunto delle polemiche in merito ai ristoranti Crazy Pizza. Credo sia un po' le polemiche pedisse come quelle che vengono fatte a Cracco ogni volta che qualcuno pubblica lo scontrino in quanto costa la pizza da Cracco, no? Cioè, secondo te perché ci sono così tante critiche in merito al costo di un prodotto quando poi effettivamente nessuno ti obbliga ad andare se ci pensi, no? No, ma poi sono... Guarda, la polemica è nata con i napoletani, no? Cui vogliamo tutti bene per cui pensano che gli affitti di Napoli sicuramente non sono gli affitti di Milano per cui quando apri Milano c'è dei costi diversi che quando apri una città diversa, no? Sì, certo. Roma, ad esempio, costa meno di Milano negli affitti. Certo. È tutto proporzionato per cui se tu vuoi dare della qualità a un prodotto poi sai che si pizza la pizza costa 15 euro la margherita non è che costi gli altri saranno 12, 13 ma tu entri in casa di pizza c'è il DJ c'è lo show c'è lo spin in pizza c'è un'atmosfera per cui credo chiediamo un prodotto poi sai tutto quello le polemiche l'unica cosa che conta è chi è cliente se tu i locali sono pieni la gente viene e chi se ne prega hai ragione tu in Italia tu dici spesso che c'è un'avversione irrazionale verso la ricchezza e i ricchi da cosa diresti che dipende questa cosa? In Italia c'è un'avversità nei confronti delle aziende nei confronti di creaziende cioè perché la povertà si combatte solo trovando dei posti di lavoro la povertà non la crei non la batti facendo delle lemosina il bonus il super bonus la nonna la zia cioè la povertà tu la elimini dando creando dei posti di lavoro dando alla gente la possibilità di essere felice e se tu sei felice è solo se c'è un lavoro ma qui per trovare azienda ma c'è una complicazione che negli altri paesi non esiste e quella è la parte più difficile poi logicamente c'è molta invidia diceva Montanelli se tu ti fermi un semaforo uno c'è una Ferrari ti fermi un semaforo di Los Angeles l'altro con una 500 dice cazzo adesso voglio lavorare per comprarmi anche io la Ferrari e qui te la rigano qui ti ritirano una bella riga se posso perché c'è proprio la difficoltà mentale per creare burocrazia per chi vuole creare posti di lavoro credo che sia questo il problema e poi senti e poi c'è da dire una cosa che i salari italiani sono molto bassi ma sono molto bassi perché lo Stato prende una fetta enorme di questa parte di salari e ancora adesso non si riesce a creare un cuneo fiscale che dia la possibilità a chi lavora di guadagnare le cifre normali che guadagnano negli altri paesi che cos'è la ricchezza per te per me per me la ricchezza è la libertà cioè la libertà di libertà libertà tua della tua famiglia poi sai la ricchezza non è che avere i rubinetti d'oro vuol dire essere contenti la ricchezza è il tempo libero avere più tempo libero per la tua famiglia io ho un figlio piccolo cioè 13 anni per cui la libertà è quella di poter dire se voglio farmi 10 giorni un weekend con lui me lo faccio la libertà secondo me è questa la libertà la libertà non è la casa da mille metri quadri che poi quando devi andare a fare la pipì ti pisci anche addosso perché non ci arrivi più nel bagno la libertà è proprio quella di essere di essere avere la libertà di scegliere quello che vuoi per chiudere delle tantissime cose che hai fatto non credo siamo riusciti comunque ad elencarle tutte nella tua vita di quale vai più orgoglioso? mio figlio bella risposta qual è invece il tuo più grande rimpianto? il mio più grande rimpianto magari di non essere riuscito a fare una vita normale a un'età diversa dalla mia io ho avuto mio figlio avevo 60 anni per cui credo che ho perso un po' feeling di essere giovane con lui di poter giocare a pallone con lui che non lo puoi più fare io vedo che sono dei papà che hanno 45 anni 40 anni che hanno dei bambini che hanno 7-8 anni 12 anni forse è questo che è un po' rimpianto tutto il resto rimpianti non ne ho perché se guardo da dove sono partito a dove sono arrivato devo ringraziare il cielo tutte le volte perché io sono sempre dell'idea di dire devi sempre guardare indietro ma è solo avanti perché le radici non si cancellano io sono nato con niente ho creato tanti ricchi perché io ho creato una montagna di persone ricche ho creato dei collaboratori ricchi che stanno facendo molto bene do lavoro ancora adesso a più di 1000 persone per cui tutta gente che guadagna bene non sentirai mai dire che noi paghiamo meglio di tutti quanti per cui sai nella vita devi solo sperare una cosa la salute l'unica cosa che conta è quella di stare più a lungo possibile con i tuoi figli con i tuoi cari con la persona che vuoi bene con tua moglie io ho un ex moglie a cui voglio molto bene perché siamo sempre molto legati per il nostro figlio però la cosa più importante è la salute non c'è niente non c'è ricchezza che possa sostituire la salute molto bello ringraziamo Flavio Briatore per essere stato con noi ci vediamo a una prossima puntata di Wolf grazie a tutti grazie a tutti